Ciao, benvenuto in questo nuovo post, oggi dedicato al concetto di educazione. Nei post precedenti abbiamo visto l'interscambio informativo quando si attiva il canale empatico e vediamo che con l'attivazione del canale empatico i due esseri profondi che ne entrano in comunicazione diventano simpatici, operano all'interno di questo canale un flusso informativo che è evolutivo, un interscambio sostanziale che si stacca dal mondo virtuale e porta l'informazione dello stesso all'interno del mondo reale e quindi abbiamo uno scambio di informazioni coscienziali. Queste informazioni abbiamo anche detto sono integrative della propria consapevolezza per cui ogni volta che noi attiviamo il canale empatico entriamo in compassione con un'altra persona noi ci troviamo nella condizione di poter evolvere il nostro essere profondo e di integrarlo a quella che è l'esperienza della realtà virtuale. Abbiamo parlato anche però di manipolazione ossia impedire attraverso il filtro del giudizio questo interscambio e poter controllare l'altro soltanto dal punto di vista mentale. Perché avviene questa manipolazione? Questa manipolazione rende la persona che esercita la manipolazione stessa una persona immobile, cioè una persona che pur essendo viva nel mondo del divenire vuole rimanere nella sua posizione perché la sua programmazione mentale non lo porta ad evolversi e quindi ad accogliere l'altro, a comprendere l'altro come riflesso di se stesso. Allora perché affrontare in questo posto il concetto di educazione? Perché nel momento in cui la manipolazione, diciamo, è sostanziale, diventa il proprio scopo di vita anche a livello inconscio e una programmazione che diventa automatica, ti viene spontaneo da manipolatore poter convincere sempre il proprio interlocutore. Una cosa veramente molto complicata, visto che abbiamo consapevolezze diverse. Questo convincimento si può fare praticamente alla base e nasce quindi il concetto di educazione. Il sistema virtuale mentale programma l'essere umano sin dalla nascita e noi vediamo che il rapporto tra il bambino e il proprio genitore o comunque colui che si occupa di lui è un rapporto di stretta dipendenza, è un rapporto molto legato all'emotività per cui il bambino dipendendo naturalmente da colui che gli insegna a vivere si, diciamo, costruisce il suo mondo, comincia a costruire il suo mondo virtuale. Che cosa succede quando al di là dell'educazione dei propri genitori poi c'è l'educazione sociale, l'inserimento all'interno della società? Che a quell'educazione si aggiunge il software di programmazione. Questo software deve essere compatibile con più persone possibile affinché si possa vivere in comunità. Noi vediamo che la conflittualità comunque nasce sempre a livello spontaneo perché questi software che derivano dall'educazione sono software di controllo, di programmazione. Quindi nell'identificazione con il mondo virtuale, totalmente identificati con questo software ci si dimentica quella che è la propria natura e si tende a controllare questo individuo e mantenerlo all'interno di questi software che vengono installati continuamente dalla società. Perché ci sono tanti software? Proprio perché è il mondo del divenire, il controllo deve essere a tutti i livelli e perché c'è questa necessità di installare sempre continuamente diversi software e non mantenerne uno solo? Proprio perché l'uomo non è strutturato soltanto per programmazione, per programmare, per essere programmato. L'uomo ha una caratteristica fondamentale che è alla base dell'esperienza coscienziale che è l'emozione. L'emozione è un patrimonio che all'uomo è incontrollabile. All'interno della società effettivamente, una società organizzata attraverso il controllo e attraverso l'educazione, l'emozione funge da elemento di destabilizzazione. Per cui per poterla soffocare e per poterla controllare è necessario rinnovare sempre dei software. Perché le emozioni maggiormente subiscono, nel momento in cui subiscono una repressione, poi si manifestano in altro modo e con sfumature che sono tutte le potenzialità che il nostro essere profondo esprime. Allora che cosa succede a livello educativo? Che noi, quando nasciamo a noi, viene affidato, viene installato quello che è il sistema operativo. Se noi non avessimo un sistema operativo, ma avessimo tanti software, questi software andrebbero continuamente in conflitto tra di loro. Invece è stato necessario costituire una piattaforma, un unico sistema operativo in cui potessero essere compatibili questi software e queste capacità di gestione della comunità. Quindi anche se noi andiamo a rimuovere il software, la programmazione che la società stessa, l'educazione stessa, la manipolazione stessa, l'esercizio della volontà altrui su di noi ha creato, quello che fondamenta della nostra costruzione del mondo virtuale è appunto il sistema operativo. Quindi è nata anche l'esigenza proprio perché c'è una potenzialità espressiva, emotiva enorme, enormemente più inconscia rispetto al mondo conscio programmabile, al mondo conscio virtuale. È chiaro che l'educazione inizialmente funge da strumento di apprendimento, cioè è necessario che comunque l'uomo coscienziale, l'essere profondo, cominci a integrarsi nella sua realtà virtuale, nella sua proiezione. Ora che cosa succede? Che l'educazione ha anche poi la pretesa di governare tutti i suoi pensieri. Quando invece ci si rende conto che tutta una serie di pensieri, tutta una serie di programmazioni, anche emotive, sono dettate dalla mentalità e soprattutto sono filtrate dalla mentalità, ci si rende conto che in realtà si dovrebbe abbattere definitivamente il proprio sistema operativo. Significa staccarsi completamente dal modello educativo che fino a quel momento ci ha guidati, che fino a quel momento ci ha dato gli strumenti per entrare in questa realtà virtuale e cominciare a ricordarsi l'essere profondo. Noi viviamo così, se siamo ancora legati all'educazione, una sorta di oppressione, di chiusura e di non manifestazione delle nostre potenzialità. Perché questa educazione è un'educazione soltanto formale. Allora qual è il dubbio di colui che comincia a capire questi meccanismi e comincia a osservare che effettivamente la pretesa educativa laddove ci sia una consapevolezza che ormai si sta staccando da quella manipolazione esterna, da quella programmazione, il dubbio che viene alle persone che cominciano a svegliarsi e a osservare questo mondo è adesso come faccio a vivere in questo mondo virtuale che è fatto di regole, è fatto di programmi, è fatto di condizionamenti quando io non ho più bisogno di quelle regole, di quei condizionamenti, di quei programmi perché io mi autodetermino. Allora ci si rende conto che è necessario comprendere questi meccanismi per vivere la propria esperienza ma questi meccanismi devono essere necessariamente superati. Quali strumenti avrò per operare in questo mondo? Visto che fino a questo momento gli strumenti che avevo a disposizione erano dei programmi che mi erano stati messi a disposizione e di cui ho suffruito e attraverso i quali io mi sono integrato nella virtualità. L'integrazione avviene nel momento in cui si capisce questo meccanismo, ci si mette nella condizione di esprimere le proprie potenzialità senza essere rilevato dal sistema. Quando il sistema invece, il sistema virtuale, l'organizzazione non ti rileva più e tu diventi come invisibile, allora vuol dire che stai attivando un upgrade, diciamo, evolutivo incredibile. E di questo upgrade, di questa risorsa fondamentale del nostro essere profondo, ne parleremo nel prossimo post. Ciao!